La collana dei tascabili di Palazzo Lascaris si arricchisce di due nuove pubblicazioni. La prima è dedicata alla cittadella di Alessandria dell'architetto Ignazio Bertola, che costituisce uno dei più grandiosi monumenti europei, esempio di fortificazione permanente del XVIII secolo. Il secondo volume propone invece un viaggio virtuale attraverso i quattro segmenti della via francigena che attraversano il Piemonte, con curiosità e consigli pratici che invoglieranno il lettore a mettersi in marcia. Entrambe le pubblicazioni sono in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino.